Buonasera a tutti, la domenica non si lavora, la domenica non si compra niente, state tutti tranquilli questa è un'azione comunicativa, siamo studenti, precari, disoccupati, siamo la generazione che non ha il futuro, siamo qui oggi per parlare con tutti i lavoratori e le lavoratrici staggarie di questo posto, che è una fabbrica di libertà e non sui percorsi, ma i diritti che vengono accettati, siamo qui oggi per indicare tutti allo centro e al centro del passato di Cirolende, vogliamo indicarvi a uno spettore di movimento dove anche i precari che non sono sindacalizzati e non hanno tutela, possono ricominciare a scioperare e a riprendersi il diritto di scioperare, e dire, prendere parole sul proprio futuro e sulle scelte del proprio lavoro, faremo un volantinaggio dove comunichiamo e cerchiamo di fare nascere una nuova sensibilità nel mondo del precariato per riprenderci i diritti che ci stanno legati tutti i giorni. Prima di Marlaine Mercolibì scioperò, alla domenica non si lavora, è giorno di festa. Schoperò, scioperò, 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 scioperò. uno sciopero di movimento in cui anche i percari e gli studenti andranno per reclamare quello diritto al futuro. Siamo stati di dover lavorare sempre, essere sempre disponibili. Adesso lottiamo la città, lottiamo tutto. Sciopero, sciopero, sciopero.